allora pronti partenza via carpi lecce la settimana scorsa c'era simone palombi di giocatori oggi invece parlo alla dirigenza con corrado rigore alla guida del lecce carpi maglia bianca lecce maglia giallorossa quindi possiamo possiamo andare avanti che è il responsabile x ok sistemiamo le impostazioni di gioco perché giocheremo alle ore 15 livello di difficoltà leggenda no 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 legge quello è predefinito giochiamo uno contro uno quindi il gioco quello non ci interessa anche un po con lecce che non teme nessun livello di formazione 4812 di liberani 4812 di liberani sicuro allora vediamo un po ovviamente c'è ogni riferimento è puramente casuale non si incavoleranno i giocatori che restano fuori assolutamente allora giù c'è la panchina ecco ci sono gli altri anche oltre ok vediamo a destra confermiamo venuti ieri che ha fatto un gran bene poi mettiamo ma io voglio sbizzarrirmi stavolta faccio bovolucioni ah bovolucioni che ancora non abbiamo potuto lo faccio io giustamente poi centrocampo centrocampo ci metto petri qua petri davanti alla difesa ci metto ci metto aia aia attenzione aia in campionato mai titolare quindi lo lanciamo poi ci metto falco qua falco seconda punta quindi lo giochiamo a carpino a carti a carti a carti ci metto palombi qua come mai palombi a carti e non la mantia così fuori casa per la velocità ripartenza ripeto è che voi palombi perfetto ci siamo quindi lecce con vigorito venuti bovolucioni calderoni petriccione agli escavone mancosu falco e palombi fermo restando che poi la partita è lunga la panchina anche una volta che sono soluzione posso fare tre sostituzioni sempre della sostituzione quindi tasto cerchio e vogliamo direttamente verso carpi lecce io 4 4 2 difensivista difesa il contropiede come tutte le squadre come il carpi che devono fare che devono fare allora vediamo un po lo stadio del cappi un gioco da un sacco subito ci mette le mani avanti la settimana scorsa palombi invece di se io invece gioco aiuta a scaricare i giocatori io mio figlio gioco tantissimo il lecce è mancato per tanti anni la serie b è servita anche per questo voglio fare tipo il gioco di livellani palla bassa si riparte sempre dalla difesa vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa hanno deciso di affidarsi a un canonico 4 4 2 due linee da 4 e ovviamente due punte lì davanti mi sembra una scelta oculata il rigore di un partito forte il crotone no rigore 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 come rigore non lo so lucioni si è proprio l'ho preso ha rigolito forte alla grande allora rigore no perché si vede la freccia no vabbè non avevamo tolto impostazioni sui rigori perché non ci aspettavamo che Lucioni subito pronti via facesse il mister mi scuserà se ho fatto un passaggio alto una volta ogni tanto ci sta non esattamente perfetto un passaggio alto una volta ogni tanto lo perdonerà azione interrotta calderoni è uscito hanno provato a portare partire strali ma sono andati per sempre 4 3 3 e beh invece con questo lecce bisogna puntare centralmente la fantasia non manca il pallone è uscito non l'ha controllata c'è percato eh cinquare ancora Lucioni che è stato protagonista meno male che non l'ha espulso non l'ha munito neanche si non l'ha neanche ammonito perché in serie B non c'è il bar non è capito che non è un fallo è un fallo insomma può far partire i cross allora il lecce è abbastanza chiuso ma dovesse il pallone in area ma senza precisione provo a sfondare con le palle alte ma il lecce in aria Bovo e Lucioni con le palle alte è un po' difficile fargli del male ho capito che ti danno fastidio quei passaggini un po' alti si si eh non sono sempre facili percriccione? portiere che si allunga e sventa la minera di Criccione guarda che ha parato quello guarda bomba da pazzo eh percriccione ha fatto una finta niente male guarda che ha parato quello vabbè dai con una mano Colombi sventa il pericolo guarda che avevo fatto eh beh questo è quasi un gol ha impedito una rete sicura eh Lucioni di testa sui calciangolo è garanzia eh no guarda veroni non si fa superare dire il gioco bene eh si ma anche a fifa devo dire è sempre uno fra i migliori non ti ho fatto niente qua non ha fischiato nuda rapido anche a fifa fra i migliori in campo sempre i calderoni tra l'altro in tutte le partite che solitamente facciamo tutti se cominciò se cominciò a giocare di prima intercetta il pallone tutti quelli che hanno sempre preso in lecce hanno sempre confermato il 4-3-1 ormai ha fatto ha fatto scuola ottima ti ho fatto 4-3-1-2 si 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 faccio un punto ma non ho intercettato perché mai 4-3-1-2 abbonamenti di domenica 4-3-1-2 ah si i regali i regali i regali di abbonamenti di domenica non ho sposto ha sbagliato il desinveglio regali di messa con le mani non ho un'idea poli così al volo si si fantastico vede che cantiere e-games stimola l'idea quella dirigenza la mette in mezzo con questo pallone cross che si perde sempre bovo di testa caderoni tra bovo e lucioni oh no ragazzi adesso gioco come liberani guardate vediamo come gioca quindi sono stati i mugugni perché la panadiera esattamente no vediamo se è fuori gioco rischiato di pochissimo però di prima effettivamente questa è una grandissima una bella giocata l'ho capito come partire di prima ci ho fatto l'unico rischio del voto perché non gioco molto perché ti faccio qualche faglio grave espulsione che abbiamo visto ha iniziato a partire intanto a filo il primo tempo è stato il primo tempo è combattuto pensavo peggio al di là dell'episodio del rigore possiamo dire però c'è stata una grande parata di colombi qui è un fatto duro è sempre 4 minuti cominciamo la sostituzione appena mi sa che c'è bisogno di una mantia appena diciamo falso servono i cambi non ci sono assolutamente problemi si fanno immediatamente bravo qui il difensore che legge bene questo pallone vediamo che ogni tanto si addormenta buona riquezione qui lo diciamo falco si addormenta ma non specificiamo qualcuno bovo possesso palla ragionato da dietro in lecce sempre con Petriccione fra le linee alla di Verani come quando giocava di Verani no Petriccione intanto ti sto dando fastidio ti stai ti stai nervosendo e perché alla fine diciamo sempre finché il pallone sei sicuro di non subire gol quindi intanto si gestisce il possesso palla occhio cerca l'area di rigore scavone passato si addormenta non è solo cross in mezzo ho provato la rovesciata clamoroso ho provato la rovesciata falco e giustamente falco è uno che questi colpi ce li ha bravo andiamo dietro prova ad aprire la scatola prova la botta oh vigorito che parata ormai lo diciamo sempre e chi ci segue sempre lo sa che vigorito a fifa è praticamente una roba incredibile cioè alzi il muro e non si passa non esce il capi sto nascendo a sfruttare la qualità di mancoso anche quel parchettino ma mancoso che è approvato ho provato cambi sul fondo al sessantottesimo figurone 69 siamo al 69esimo scoccato adesso quindi ci stiamo avviando c'è il tocco sulla fascia verso il finale può mettere da lì no ielenic paro esterno e pallone eh l'abbiamo rischiato eh paro di ielenic peccato come peccato eh beh per me ah per te io poi poi domenica un altro conto domenica poi se ti fa dirci adesso devo fare la parte del mister del carto inoglia aie che mi chiude e non mi fa passare arriva periccione e ruba il pallone ancora occhio a questo arancio scappa palombi cambio cambio cambi 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 io sto tutto sommato bene così allora 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 in panchina ci sono pettinari la mantia dentro la mantia e poi facciamo aglio lo mettiamo a sinistra e tabanelli dal posto di scavola rientra tabanelli quindi ok io sono pronto e siamo pronti andiamo nell'ultimo scorcio di partita e c'è un cambio in arrivo per la parola c'è bisogno di energia di forze fresche credo sia il momento giusto questo se ne va si riprenderà con un palo laterale varia il controllo allenatore che ha scelto per inserire energie nuove decisione che ci sta la stanchezza da banelli farsi sentire guarda bene a porto a campo Matteo in due minuti c'è ancora da giocare sono trascorsi le carburale che ne restano altri dieci per chiudere i tempi regolamentari poi si inizia a giocare come le ultime partite non ce n'è più per nessuno è infatti qui subito recupera un pallone pericoloso mancoso ottima lettura recupera il pallone ottimo intervento senza pallone a spazio e davanti a sé spazio sulla fascia pallone recuperato venuti torna con un tecno di quelli decisi a menare forse è troppo deciso a menare questo te l'ha regalato proprio polemiche arbitrati possiamo dire la parte delle lecce non contento dell'arbitaggio di Erno ti ha dato un rigore e una posizione di due minuti ancora alla giocare forse rivedendo rivediamo il tentativo precedente totalmente a un passo dal gol di testa il lecce le prende tutte siamo nei minuti di recupero qui l'arbitomo fischia quindi devo mandarla dentro ma la mando dentro malissimo decisivo e finisce con la mano 0 a 0 cambiamo le regole un punto a testa almeno da playstation poi domenica non potevo farlo a sport bisogna rimanere umili in vista rimanere utile umili e poi poi diciamo 0 a 0 sul campo della playstation poi sul campo reale vedremo come andrà a finire Carpi Lecce però intanto sulla playstation l'abbiamo giocato l'abbiamo fatto avevo detto che sarebbe una partita difficile così è stata siamo stati un po' traditi dagli episodi peccato soprattutto per il calcio di rigore anche per un palo nel secondo tempo però insomma anche Lecce ha avuto le sue occasioni è un punto che muove da classifica e da morale per il futuro ma oggi non dico abbiamo fatto un passo indietro però l'atteggiamento mi è piaciuto meno rispetto alle ultime partite abbiamo commesso un grave errore a concedere quel rigore poi è stato bravo rigorito a pararlo ci siamo resi pericolosi qualche volta ma non tantissimo come normalmente accade ci portiamo una cosa positiva e ci portiamo il punto perché comunque muove la classifica e come sempre andremo a lavorare a migliorare le cose che sono andate meno bene grazie a tutti Grazie.